dal primo gennaio i sacchetti per frutta e verdura si pagano pochi centesimi ma nell'anno complessivamente potrebbero incidere fino a un euro e mezzo 4 euro e mezzo 150 di media per ognuno di noi no a riutilizzo dei sacchetti bio quando si acquista frutta e verdura al supermercato ma sia l'impiego di buste monoluso nuove che il cittadino può portarsi da casa risparmiando questa la posizione del ministero della salute cinque punti da ricordare il 40 per cento deve essere di materiale biodegradabile spesso meno di 15 micron costo da 1 a 3 centesimi direttamente sullo scontrino non li produce per buona pace delle polemiche solo la novamont che ne è l'inventore si possono comprare altri sacchetti e portarli da casa a patto che siano regolari e per chi vende se contravviene alla legge multe da 2.500 a 100.000 euro ce lo chiede l'europa manco per niente saremmo morti tutti di tossi infezione alimentare manco per sogno l'ambiente sarebbe stato deturpato dall'uso di altri sacchetti ci crediamo poco ma degli aumenti delle tariffe e dell'inquinamento globale ne vogliamo parlare e allora buona pasqua epifania a tutti